7 gennaio 2015, attacco terroristico alla redazione parigina di Charlie Hebdo. Il giornale satirico, che con i fumetti dei suoi disegnatori, ironizzava sui protagonisti della cronaca nazionale e mondiale. Una satira pagata a caro prezzo in nome di Allah. Ieri, un comando di tre terroristi di matrice islamica hanno fatto irruzione nella redazione di Runicola Per. Ore 11.30, suonano alla porta e aprono il fuoco, armati di due kalashnikov e di un lanciarazzi. 12 vittime e 11 feriti, di cui 5 gravi, ma non più in pericolo di vita. Un nuovo attacco all'Occidente, paragonato all'11 settembre di New York. Ma questa volta ad essere attaccata non è il cuore della finanza mondiale, ma la libertà di stampa, la libertà di espressione. La Francia, emblema della democrazia e portavoce delle libertà individuali con la rivoluzione del 1789, è oggi piegata davanti alla violazione degli stessi diritti di cui si è fatta carico nel contemporaneo ciclo storico. Un attacco al quinto potere, se di potere ancora si può parlare. Abbiamo pertanto chiesto ai direttori di due testate giornalistiche locali e ai cittadini cosa ne pensano. Direttore, cosa ne pensano di quello che è accaduto ieri alla rivista satirica di Parigi? È sicuramente una tragedia immane, di grandi proporzioni, che deve spingere la comunità mondiale ad una riflessione, ma soprattutto ad un'azione molto energica e incisiva. Ieri praticamente c'è stato un salto dell'azione del terrorismo e del fondamentalismo islamico. Se nel 2001 aveva colpito il cuore dell'economia mondiale gli Stati Uniti con l'assalto alle terri gemelle, ieri abbiamo visto che anche un presidio di informazione, la stampa satirica, è stata e finita nelle mani appunto nel mirino di questo terrorismo, compiendo una strage di tanti colleghi. Questa società sta diventando sempre più brutta, è un termine molto semplice. Purtroppo questo non è l'Islam, sinceramente, non può essere l'Islam a provocare certe cose. Solo che questa società è diventata così violenta, talmente violenta che basta anche una vignetta, basta anche un pensiero fuori dal coro o comunque un pensiero che non sia conformato con certi integralismi che scatena certa violenza. Del resto vediamo in Medio Oriente cosa succede, vediamo cosa sta provocando l'ISIS appunto in Medio Oriente, per renderci conto che purtroppo è come se volessero mettere il bavaglio innanzitutto alla stampa. Questo secondo lei vuole essere un attacco alla libertà di stampa? Mi ha colpito stamattina, scorrendo su Twitter, quello che un giornalista del Corriere della Sera rituitava a sua volta. C'era in questo tweet una frase, se hai paura di una vignetta vuol dire che il tuo profeta è un nano. Questo accostamento sta a dimostrare, io credo che non ha nulla di offensivo, sta a dimostrare come c'è una piccolezza di animo, di visione, una piccolezza mentale che significa chiudersi agli orizzonti del mondo, a quello che possono veicolarci anche civiltà, etnie differenti, chiudersi all'integrazione che è una cifra diciamo del nuovo millennio che viviamo. L'Islam, il fondamentalismo islamico vive appunto nella chiusura verso il mondo esterno, nella difesa di principi che si fondano sull'illegalità e sulla violenza. Ma vorrei richiamare anche quelle persone che sono state decapitate in quel modo atroce, barbare, poi quel video postato, che cos'è queste persone inginocchiate davanti al buio, e che cos'è se non un'immagine di una crudeltà e di una crudezza assoluta. Ecco, di fronte a queste immagini raccapriccianti non si può stare fermi, occorre ora subito una reazione forte dalla comunità mondiale, perché questo ci dimostra che ormai il terrorismo può anche attaccare l'Europa, può attaccare anche città, nazioni vicine a noi come Parigi e la Francia. Significa che la stampa è sempre sotto attacco, anche nelle piccole cose, potremmo parlare qui a lungo di tante vicende, anche piccole, che però significano molte cose. Oggi basta che la stampa sia un po', come dire, non sia allineata, che scatena reazioni, certe volte verbali, ma certe volte non proprio verbali. Cosa pensa della strage di ieri? Sinceramente ho seguito poco, comunque siamo tutti sempre più allibiti di queste cose che capitano, anche se lontani da qui, però sono sempre molto attuali. Siamo contro la violenza, come tutti quanti, ritengo sia solamente una causa derivante dall'esasperazione religiosa che esiste negli arabi. È una cosa gravissima, è gravissima, perché si perde la libertà. È un disastro. Che dovremmo avere più tolleranza, che non si può più andare avanti così. È una cosa terribile, indubbiamente, chiunque lo direbbe. È un attacco alla libertà di stampa, cosa ne pensa? Io credo che l'attacco sia in realtà rivolto a tutti, perché questo vuol dire un attacco alla libertà di ognuno di noi. Sicuramente è un attacco alla libertà di stampa, ma più che di stampa, con propaggini religiose. Noi siamo diventati zero, che io ricordo, prima c'era gente che effettivamente ci teneva alla moralità, adesso purtroppo non c'è più. Libertà di stampa sempre nei paesi democratici ci deve essere, indipendentemente da tutto. Se un paese è democratico ci deve essere la libertà di stampa. E a Taranto, in Italia, secondo lei c'è libertà di stampa? In Italia non esiste la libertà di stampa, lo sappiamo tutti quanti, i giornali sono al soldo dei politici, oppure di uomini politici, esponenti, oppure gruppi economici molto importanti. E per fare il giornalista bisogna essere a servizio di queste persone. Per il momento speriamo di sì. Quello che si vede da fuori è sempre tutto manipolato, cioè l'impressione è sempre che la roba sia sempre manipolata, eccetera.